Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci arrivati con l'appuntamento di trading, in questo caso un video che riguarda la struttura di mercato e quali sono gli elementi che fanno parte della struttura. La struttura, così come viene definita, è un qualcosa che tendenzialmente proprio io ho portato un po' nell'ambiente del trading, almeno in Italia. La parola struttura va a prendere un insieme di caratteristiche che il mercato deve avere e che adesso voglio farvi vedere qui nel grafico. Allora vado a tutto schermo, eccolo qui così lo vediamo un po' meglio e noterete che questo è un mercato per i forex trader molto conosciuto, il dollaro australiano sul dollaro americano, potrei tranquillamente andare a prendere anche altri mercati, ma tendenzialmente mi piace questo come è fatto, ma ripeto non cambierebbe nulla. Quali sono le caratteristiche che deve avere la struttura di mercato e quindi come andiamo poi a lavorarci? Ovviamente questa è una videopillola, quindi non andrò in profondità, ma voglio spiegarvi un attimo rapidamente quali sono le caratteristiche di questa struttura. Allora la prima che io vado a vedere intanto è quella di andare a vedere questa struttura in un time frame ampio, quindi deve essere un settimanale mensile. Tendenzialmente io preferisco il settimanale per tanti motivi, anche se il mensile non è nient'altro che un settimanale con un po' meno candele, quindi in linea di massima quello che vediamo è uguale. Quindi io vado a prendere un settimanale e nel settimanale, quindi partiamo da quello, quindi la struttura si guarda sul settimanale e la prima cosa che vado a vedere è se siamo di fronte a una tendenza o meno. Quindi la domanda che dovete farvi nel leggere la struttura è capire la tendenza. Capire la tendenza che non significa per forza che ci sia una tendenza, ma potrebbe esserci per esempio un mercato laterale, quindi capire che quel mercato sta lateralizzando su due aree, per esempio. In questo caso specifico, quindi prendiamo l'ultima parte del grafico, eccolo qua, e noteremo che negli ultimi 8-9 mesi c'è una tendenza long. Ok, quindi la struttura ci sta raccontando che la corrente di questo mercato è una corrente che vede gli acquirenti come coloro che hanno la presa massima sul mercato e che ai ribassi del mercato vanno a conseguire dei rialzi anche molto più importanti. Quindi sono degli swing che arrivano. E proprio degli swing sono poi il secondo punto che si va a vedere, che è molto connesso alla volatilità. Quindi swing e volatilità viaggiano paralleli. Che cosa significa? Significa che io devo assolutamente capire e vedere dove siamo, ovviamente sul grafico, quindi che tipo di tendenza c'è, come dicevamo prima, ma devo anche capire se questa tendenza è in questo momento, per esempio, in una stazione di alta volatilità. Quindi, e quindi si ha già fatto degli swing, ecco, perché sono molto, molto, siamo correlati questi due elementi. Quindi, in questo caso, per esempio, arriviamo da uno swing qui, uno swing qui e un consolidamento qui. L'ultimo vero swing dopo, cioè l'ultimo swing dopo un ritracciamento vero è stato qui, questo. Perché da qui c'è stato un ritracciamento di un certo tipo, di qualche settimana, e qui c'è stato lo swing che ha portato poi al rialzo. Quindi l'ultimo vero swing è questo, cioè l'ultimo swing è importante, più che vero. Poi c'è un consolidamento qui che comunque può essere in realtà poi a livello operativo anche uno spunto di entrata. E poi l'ultimo, ultimo swing, che però non è avvenuto su un ritracciamento almeno di una candela, quindi almeno di una settimana, o due settimane voglio dire, ma solo di questa, ha riportato sui prezzi. Quindi diciamo che c'è una volatilità abbastanza importante e che siamo lontani dall'ultimo swing importante, che è questo. Mentre siamo vicini dall'ultimo swing reale sul mercato. Quindi anche qui leggiamo la struttura. Cioè cosa significa? Che io quando vado a tradare, se voglio tradare in una tendenza, cercherò di tradare vicino all'ultimo swing dopo un ritracciamento o una congestione. Ok? Quindi in questo caso, qui faccio un po' fatica perché siamo un po' lontani dall'ultimo swing dopo il ritracciamento. E quindi c'è una volatilità un po' ormai ampia, un po' come quando siamo qui, dopo questa grande volatilità. L'ultimo swing era arrivato praticamente su queste zone e quindi eravamo lontani dall'ultimo swing con ampia volatilità. Quindi c'è trend, ma attenzione perché prima di reinserirsi nel trend aspettiamo una congestione, un ritracciamento e lo swing. Quindi altri punti, diciamo due punti della struttura. Dopo la tendenza, oltre al time frame che deve essere almeno un weekly, dobbiamo vedere appunto che la tendenza e che tipo di volatilità c'è e che tipo di swing c'è stato e quando è stato l'ultimo swing. Se siamo troppo lontani dall'ultimo swing, diciamo che è meglio attendere magari un ritracciamento se siamo in una fase di trend o attendere per esempio un qualcosa che può darci un reverting o una reversal del mercato e quindi tendere magari in quel caso a lavorare in controtendenza. Quindi non per forza dobbiamo lavorare in tendenza, ma dobbiamo cercare di capire la struttura, ecco perché volevo spiegare. L'altro punto che diciamo è importante nel leggere la struttura è i livelli chiave di domanda e offerta, cioè quelle zone che voi vedete, segnate qui nel mio grafico, bianche, grigette in realtà sono, comunque che vedete più bianche, e sono queste qui tratteggiate, vedete? Le zone di domanda e offerta, che adesso ovviamente non è che vi racconto come le segno, probabilmente sul canale YouTube trovate anche qualche webinar che abbiamo fatto riguardo a questo. Nel sito di Airforex trovate addirittura dei corsi che, il corso sulla price action, quello completo, sono un sacco di ore dedicate anche ai livelli di domanda e offerta. Che non sono i livelli di volatilità, sono i livelli di domanda e offerta e che vengono segnate in base a quello che negli ultimi due, tre, quattro anni il mercato ci ha detto di quei livelli di prezzo. Quindi se ci ha mostrato interesse a vendere o comprare, andrò a segnarlo sempre su grafico mensile settimanale, quindi in una big picture, per poi andarci a lavorare o comunque sapere che ci sono delle zone calde sul mercato. Quindi questo è il quarto punto, diciamo, importante che dobbiamo andare a valutare. In realtà potrebbe essere il quinto se ci mettiamo il time frame, perché mettiamoci uno, time frame ampio, weekly mensile, due, capire la tendenza, tre, swing, direi quattro volatilità, ma possiamo mettere tutto swing e volatilità nello stesso punto, quarto, livelli di domanda e offerta, e quinto il trigger, cioè quello che ci stanno indicando le candele nelle ultime settimane, per esempio, quindi il fatto che ci indichino una price action di un certo tipo in base a quello che è la struttura precedente, quindi tutto quello che abbiamo detto finora. Quindi, per esempio, in questo caso specifico, in questa tendenza long, abbiamo avuto, almeno nell'ultimo periodo, due spunti, questo spunto qui che fa da trigger per un long e questo spunto qui che fa da altro trigger per un altro long. Questo è un ritracciamento con un inside su un buon livello, questo è un ritracciamento con un FTV, doppio minimo higher, su un ottimo livello. Quindi c'era la struttura e c'era il trigger che ci poteva permettere di farci un trade su questo mercato o comunque avere poi delle informazioni operative per poi andare magari sul daily e cercare delle entry. Avete capito? Quindi questa è un po' la view. Questa è, diciamo, come leggere la struttura. Quindi quando mi iscrivete che volete, diciamo, parlate di struttura e volete sapere un po' di più per quello che riguarda la struttura, vi ricordo che la struttura va letta in questo modo. Quindi se si parla di struttura e abbiamo un grafico a quattro ore, non possiamo parlare di struttura. Ma neanche un daily, cerchiamo dal weekly in su. Il weekly lo trovo, ecco, per spiegarvi, fondamentale. Ho già fatto dei video su questo, chiamato anche la bussola del mio trading, perché rispecchia bene la chiusura di settimana, che credo sia, da un punto di vista dei mercati in generale, la chiusura migliore che possiamo andare a vedere. Anche rispetto a quella mensile, proprio per l'essenza del mercato, cioè che a fine settimana chiude. Mentre nel mese a volte la chiusura mensile può essere, per esempio, di martedì, di mercoledì, cioè durante una fase. Quindi settimanale è sicuramente ottimale per leggere la struttura, quindi tutto quello che ho detto. Rivedetevi questo video, se volete appunto approfondire le tematiche di price action, vi aspetto nel Platinum. Trovate tutte le informazioni sul sito iarforex.com. Io vi aspetto ovviamente nel prossimo video, lasciate un bel like se vi è piaciuto, vi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Io vi saluto e vi auguro un buon trading sito.